Protesta dinanzi al comune di Gela, l'ennesima. Questa volta a far sentire la loro voce sono stati lavoratori del reddito minimo di inserimento 78 unità. Per motivi burocratici nel mese di gennaio non hanno svolto alcuna attività lavorativa in attesa che dalla regione venisse garantita la copertura finanziaria. Chiedono all'amministrazione di poter recuperare le ore perse a gennaio nei mesi successivi. Sappiamo che dalla regione è stato finanziato da gennaio ad aprile e non ci è stato versato questo mese. In pratica ci hanno detto che ci daranno soltanto l'anticipazione del mese di febbraio, cosa che noi ancora non abbiamo completato. Noi dovremmo dare le 80 ore che ci hanno fatto perdere per via della burocrazia. Noi chiediamo i nostri diritti perché abbiamo bisogno di mangiare, da dicembre che non vediamo un centesimo. E noi oggi, visto che il sindaco è convinto che a noi ci piace chiamare la stampa e fare i teatrini, allora diciamo al sindaco in anticipazione che se oggi non include qualcosa ci leghiamo tutti là sopra e portiamo anche la famiglia. Perché siamo stanchi, perché i figli hanno fame, devono andare a scuola, non hanno il panino, non hanno i libri, non hanno niente. Quindi deve provvedere in qualche modo, non esistono solo gli altri, esistiamo anche noi, da 14 anni che facciamo la fame. Il sindaco ci ha promesso che non ci deveva fare perdere il mese di gennaio. Noi ancora non abbiamo né carta scritta, dice solo chiacchiere, perdiamo tempo a venire qua invece di andare a lavorare, dobbiamo prendere il permesso, ci levano le ore di lavoro, ma noi siamo stanchi. A casa i nostri figli stanno soffrendo, chi perde la casa, chi ha uno sfratto, chi non può pagare l'assicurazione della macchina, siamo stanchi.